Ciao a tutti gente, siamo di nuovo qua in una guerra in corso, ma guarda un po' tanto per cambiare, anzi due guerre, perché si sono dichiarati indipendenti Crick, una occupazione nativa americana e devo recuperare di mal tolto. Soprattutto in un vero che questi staterelli del Sacro Romano, ho intenzione, se possibile, di vassalizzarli tutti, anche la lega anziatica, che però sarà forse quasi impossibile, però ci si prova, posso provare almeno, perché se li vassalizzo mi votano a favore, poi per le riforme, quindi non ho troppo speranza di ricreare. Anche se in realtà io volevo ricreare l'impero romano, ma non credo che ci sia questa opzione, purtroppo quest'anno tutto il territorio, allora almeno farò così. Dunque, avevo preso i trevi, e forse già loro potrebbero uscire dalla guerra, non so. Vediamo intanto, per ricordarmi un attimo, con chi devo combattere. Liegi, perché già ci sono di bene due eserciti, trancoforte, libera, ed è qua. Allora, vediamo un attimo, per i trevi, credo che accettiamo di vassalizzo, un attimo di rianci, troppo presto. Ecco, però intanto vi propongo la mia pace, poi vedranno loro. Sì, chi sono? Ah, proprio loro, proprio loro. Eh no, non posso consentirli di prendersene già sul via. Facciamo i seri. Per cui si tratta di attento. L'hamsback Deve dare costilio. Non farò un tempo. Però almeno li vendico. Già che ci sono, però devo pure assedio qui. Ma lì è in serata, ha un sacco di navi e di risorse. Nonostante sia piccolo. Con tutti i miei alleati, tranne i polacchi. Ovviamente i polacchi ne stanno un po' lasciando correre le mie varie chiamate. Oh, io devo, adesso ho superato, proprio si perdono i punti così. E questo mi dà un sacco di vantaggio adesso. Soprattutto la fanteca di lino. Ma non solo. Anche la cavalteria. Ci ci mettiamo. I dragoni, i latini, i samolatini. Soprattutto. Si sembra che tutto ci stia normalizzando piano piano la mia flotta. Arriva sempre mezza rotta. Forza, cominciate a forzare qualche... Ansbach è proprio quello che non posso chiederlo. Perché è il capo della loro alleanza, quindi non posso. Io però guardi a Pettoyana su a nord. Sistemare un po' la liganze atica. Gosa. Gosa. Andiamo a Francoforte. Ancora. Gli apriamo spesi tante volte. Che ci passero le mie condizioni. No. Nonostante 81%, ancora meno. Ancora. 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 Nonostante. Ancora. Cancora. Grazie a tutti. Non lo mai credi? Dovrebbe accettare il passavaggio. No, il 99% eppure non lo accettano. Va bene. Non andiamo così. Tra l'altro tutte queste manovre impediscono di fare azioni mediterranee. Grazie a tutti. Dobbiamo che riportare qui la legione. Tentano uno sbarco. Bravi. Bravi ansiatici. Dov'è la mia guardia? Allora, loro vogliono sbarcare in un gato. Ora, potrei affondargli? Forse no. Non sono, sono tante. Sono tante. Ancora un po' di cottura. Un po' di vento. 10. Anche 10. Deve... Un pochino essere cotta. Queste sono le nostre condizioni. Un po' di vento. Un po' di vento. Un po' di vento. Grazie a tutti. 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 Ancora la prima volta che un esercito italiano va addirittura nella Germania Settentriunata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettiamo ancora. Grazie a tutti. 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 perché sia un boccone troppo grosso di digerire come la sali perché sia molto ricco, esatto quindi io gli chiedo non è fuori soli no, non è molto ricco almeno nulla qualche trattato a questo punto no vabbè quindi in questo modo la sali a non 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 è la salita la salita la salita no 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 Allora per il momento ritiriamo le truppe piano piano di cerco e poi rotto. Una battaglia diversa varia, un po' più d'endria. Così quasi me li annetto questi direttamente. No però mi servono i voti, mi servono i voti. Questo è pieno di soldi. E ricco da fare schifo. Grazie. 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info In F Rossi no, ho fatto il matrimonio reale adesso, quindi FIEDERAZIONE POLACCO LIQUANA nelmeno E gli altri non li posso fargliare c'è una carenza di punti diplomatici da lette proprio 10 per l'ultimo si vedrà allora adesso l'ultima cosa che faccio intanto metto in pausa è quella di costruire un po' di grandi manifatture penso che adesso ho un po' di soldi disponibili faccio almeno nelle terre più ricche già l'ho finito io salvo al prossimo episodio bye bye ciao 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 ciao